Cari amici, sono qua anche questa volta per documentarvi la truffa del bonifico Flash Mi ha chiamato un tipo per delle cose che ho su internet in vendita Gli sono piaciute tantissimo, non mi ha chiesto niente, non ha trattato il prezzo, le vuole tutte Ma devo andare allo sportello Bancoma Vado allo sportello e ti richiamo Vi faccio sentire come ve lo metano nell'ano i truffatori del bonifico Flash Sapete, c'è già un altro video sul mio canale YouTube Però vi faccio sentire il secondo Lo faccio insieme a voi in diretta Sentite come funziona Ti chiedono da andare a mettere un codice al Bancomat E te fai bonifico a loro praticamente Eccomi, sono avuto Eccomi, scusa, ce l'ho fatta adesso Ecco, abbi pazienza Allora, senti, anche perché poi non mi rendeva la schiena del Bancomat E ora me l'ha presa adesso Senti, dimmi cosa devo fare Ok, insiedisci là? Sì, sì, è già dentro, è già dentro Allora, cosa c'è scritto di avanti? Prelievi, bonifico, pagamenti, ricariche Ricariche e pagamenti perché prima di dovevo fare pagamenti per i miei Quindi devo fare ricarica e pagamenti Ok Sì, ricarica e pagamenti Cosa c'è scritto? Ricariche, prepagate, bonifico Allora, verso prepagate? Sì Cosa c'è scritto lì? Saldo, movimenti e conto, pagamenti, ricariche, bonifici Ricariche e pagamenti? Ricariche e pagamenti? Ricariche e pagamenti Sì Ok, e adesso? Adesso mi dice, ricarica telefonica, prepagata, altro Ma è superpagata? Ma ci sei andata la posta, dove sei andato, scusami? Al banco, matta, al banco, matta Ma scusa, ma perché io devo fare questa cosa? Se io devo ricevere il pagamento, non mi puoi fare un bonifico normale? Ma ci sei andato, no, te lo posso fare perché domani in Corriere non ho... E lo sai che però, lo sai che mi sei rotto Mi sei rotto, mi sei rotto proprio Capito? No, mi sei rotto, mi sei rotto il cazzo che tu me la voglia mettere nel culo anche te Truffatore, pezzo di merda A pezzo di merda A pezzo di merda, tu, rotto il culo Pezzo di merda, ma ficcatelo nel culo, coglione Te lo prendere il culo, dai, fa la fame per me, stronzo E smettila di metterlo in culo al prossimo, pezzo di merda Perché gatto a cazzo? Strana, truffa dei buoni frigo flash Eccola